Cari ragazzuoli, per supportarmi su Fortnite basterà andare nell'item shop, cliccare su questo rettangolino su Porton Creator e inserire semplicemente il mio nome, ovvero Cratomis. Accettare e vedrete appunto il mio nome qui in alto a destra. Inoltre vi volevo anche ricordare che dall'8 febbraio fino al 22, inserendo il mio codice su Porton Creator, avrete accesso a una nuovissima skin e anche una mimetica per le armi, in modo completamente gratuito. Quindi vi basterà semplicemente inserire il mio nome sul supporto a un creator. Detto questo ragazzi, vi auguro una buona visione. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Get the fuck out of my way, bitch! Ho un po' No, no, please. Iscriviti, non ve ne pentirete. E' blu! E abbiamo davvero davvero non c'è anche in... Oh, why do you die like this? I don't understand. Holy shit. Min, ci venga a scuracciare, baby. Ti piace? Si, è stato bello. Ok, vabbè. Cidone? Ma che serve lo cidone? Puh! Ma... No, non so entrare i duck-ass su quello. No, 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 tranquillo. Per niente. Eh, non è entrato i duck-ass su quello. No, no, no. No, non è stata i duck-ass su questo, no, no. Quanto danni? Dammi... Dietro. Dietro di me. Ok, molto. Rastardotto. Non far più sì, ragazzi. Eh, ok, medie. Papi medie, vuoi? Mi ha 86. Aspetta, aspetta. Tieni troppo qua, tieni. Ampio nuovo. Scusa qualcuno. Ampio nuovo per questo. Tutto, ecco. E' sopra? E' sopra? Quanto, infatti? Quanto? Quanto siamo? Io ne ho otto. Sei. Ne hai sei? Sì. Ho tantissime. Paulish. Così abbiamo due pad? Qualche bibbia, qualche parte la troviamo. Forse da loot ci sta qualcosa, perché vedo il buildato. Allo te l'hai, che dici? Lo troviamo. Nel dubbio c'è il quad. Oh, ma ci sta Mirkozzo, ci sta. Eh no, so che mi tocca dedicarla a Mirko, però, eh. Ci sta ciccio, cioè. Va vinto a forza, allora. Avanti per forza. Bella, Mirko. Grazie mille per il ride. Buonasera, pagurelli. Scelite poi, go. No, mi sa che hanno preso i quad e se ne sono andati. Ah no, sono là, a nord. Ho visto un qualcosa. Ah, sì, sì, sono in due. Cioè, no. Uno sicuro. Eh, hanno preso i quad. Vieni, vieni, vieni in stato. Ok, droppato quello. Meglio. Guarda, dietro io. Troppo uno. Quanto? Mi tiro uno scitone e prendo i medikit. Anzi no, prendo il cecchino, va. Ok, non ho capito per me, no, 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 no. Young, lo so. Ok, sì, sì, vedo, vedo. Vedo l'albero, tipo, no? Vedo il bus. Uno tappato. Uno tappato anche questo, nice. Stanno uscendo. Nice. Andiamo a dare a cazzo duro? Io mi droppo, però. L'ultima hanno fatto cazzo. Uno tappato. Uno tappato. Bianco. Spondo da dietro. Monico. Ci sta un movimento, anche pad, è un PC. Non credo. Per uno scalaro non so che serve. Ok. Hai un pad? Sì. Andiamo sempre verso sorti. Ok, anche se la sei fai dietro, quindi io. Vada, 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 vada. No, dimmi che ci si fa un quad almeno. Sì. C'è il quad? Nice. Sì. 20 bomb. Sì, c'è un quad. Ah, 2-10, 2-10, 2-10, 2-10, 2-10. Uno col palloncino. Non ho capito se stanno fai dando loro a loro. Non credo. Sì. Sì. L'ha serato uno. L'ha serato un altro. Alcuno sotto. Allora, scopalo uno qua. Quanto è il blu? A posto? Sì. Ho un campfire, lo metto mentre che ti curi. Vieni qua. Sì. Quindi ne abbiamo un'altra. Hai trappone in più che ne ho una? No, una. Ok, grazie. Sto fa ammazzato un sacco di... Ma c'è gente ancora dentro? Sì, è un rumore di legno. Eh, non lo so. Sì, è un rumore di legno. Beh, what action? Beh. Non ho flashato, mi sa. Sì, c'è gente. Quanto ha fatto? Era... Era... Proprio camperato. Ah, proprio sotto qua. C'è qualcuno close, guarda me. Morto. Ok. Ti push, no? Uno è sopra la montagna, uno è sotto. 47, uno. Blanco. È lacerato. Nice. Ok. 60. Ok. Allora pure in aereo. Arrapato. Guardate se è il blocco lo sull'aereo. È a posto, bronzo? Sì, sì. Trappato con la mia trappola. Oh my god. Pialbi, non si vede niente. Eh, lo so. Ok, ci sta uno qua. L'ho visto. Ah, il castellone? Tutto a destra, sì. Ma è ground o low ground? Era low ground. Ah, sì, sì, lo vedo. Blu. 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 L'ho visto giù una volta. La femmina è massato? Sì, sì. Bianco? Nice. Scirati pure. Ok. L'ultima per fare voglio 20 bombs. Io singolarmente. Sì, sì. Quindi siamo a 33, no? Giusto? Da sopra. Tanto non muore. Sì, sì. Ok. Vabbè, no. Cioè, non rischiamo, eh. No, no. Sto dietro. Vado. Da sotto? Da sotto. Da sopra? Let's go. Oh, sei bronzo. E di nuovo 33. Ma che skin avevi? Questa qua. Bacca! Questo game, ragazzi, lo dedichiamo a CiccGamer. Visto che c'ho stati. Mattone. Mattone, Mirko. Ah, mai. Visto che la song chill è servita? Te l'ho detto, pronti. Song chill e si fa comandare. Ah, non esce. Però devi dire mattone YouTube come l'altra volta. Ah, mattone YouTube. Ora ci siamo. Oh, lì, bravo.